Siamo qui con Magdi Cristiano Alan per parlare delle radici dell'Europa. Sono radici cristiane secondo lei? Non è secondo me. È una verità storica che attesta in modo inconfutabile, e lo disse Goethe, non lo dico io, che il cristianesimo è la lingua madre dell'Europa. Cioè ovunque ci si guardi attorno in Europa, ciò che ci accomuna è il cristianesimo. Il cristianesimo, le radici giudaico-cristiane dell'Europa, sono una verità storica che ha saputo far propria ed assimilare l'eredità del pensiero greco e romano. E ha saputo esprimere, non a caso, solo in Europa, nell'Europa cristiana, una sana laicità ed un liberalismo solidale. Quindi affermare, difendere la verità storica delle radici giudaico-cristiane è l'atteggiamento che corrisponde a riconoscersi, a volersi bene e a perseguire il bene comune di tutti coloro che oggi scelgono di vivere in Europa. Ha appena parlato di laicità, quindi radici in qualche modo legate a una tradizione religiosa per preservare la laicità? Gesù Cristo è stato il primo a dire date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. La laicità è parte integrante del cristianesimo. La laicità si è potuta esprimere nell'Europa cristiana e non altrove, non in altri contesti culturali e religiosi. Diverso è il discorso del laicismo, che è un'aberrazione della laicità, che immagina che la fede, la religiosità, il cristianesimo in Europa debba essere discriminato e debba essere escluso dall'ambito della sfera pubblica. Libera Chiesa è in libero Stato, si diceva 150 anni fa. Oggi ci siamo riusciti in Italia? La situazione è critica, non perché, come affermano i laicisti, ci sarebbe una infiltrazione, una prevaricazione della Chiesa negli affari pubblici. Il contesto in cui noi viviamo è un contesto laicista. I vertici delle istituzioni, ciò che accomuna i partiti politici in Italia è il laicismo. Quindi la situazione di criticità è dovuta al fatto che siamo precipitati man mano in un contesto di relativismo, dove si nega il concetto stesso di verità, di laicismo, dove appunto si tende ad escludere il cristianesimo dall'ambito della sfera pubblica e che finisce per degenerare nel nichilismo, cioè in un contesto dove si nega la valenza dei valori. Questo è quello che poi porta al venir meno della chiarezza del rapporto tra lo Stato e la Chiesa. Quindi lei non pensa che gli interventi della Chiesa, comunque di altre autorità ecclesiastiche, sulle questioni politiche, anche spingendo verso determinate prese di posizioni, siano un di più, un di troppo in Italia? Non sono sulle questioni politiche, sono su temi etici, su questioni che attengono alla morale naturale. Io dico da cittadino, da italiano, da europeo, meno male che la Chiesa oggi fa sentire la sua voce sui temi che concernono il bene inalienabile della vita, la dignità della persona, la libertà religiosa. Sono delle questioni che ispirano valori assoluti, universali, e che nell'ambito del cristianesimo sono valori trascendenti. La persona è tale in quanto cittadino, ma in quanto anche persona morale, depositaria di una spiritualità, che crede in una fede. Noi non possiamo separarci come persona e soprattutto nel momento in cui si acconsente a che dei valori assoluti e universali, valori non negoziabili, vengano messi a repentaglio, noi creiamo una crepa che dà vita ad una voragine da cui poi non riusciremo più a riprenderci. Parliamo dell'Europa, un'Europa che, quindi lei mi dice, ha radici cristiane, ma in vista dell'ingresso di altri stati che appunto si prospetta per un futuro, come ad esempio la Turchia. Questo richiamo a radici prettamente cristiane non potrebbe essere avvertito dall'esterno come una chiusura sulle proprie posizioni? L'identità è un qualcosa che ci appartiene, non è che lo possiamo negare, né dobbiamo vergognarcene. Cioè avere delle radici giudaico-cristiane appartiene ad una realtà storica. Non c'è alcun pregiudizio nei confronti di chi che sia per la sua fede, per la sua cultura e per la sua etnia. Quindi non c'è alcun pregiudizio nei confronti dei musulmani in quanto persone. Ma la Turchia non è Europa. Il 97% del territorio della Turchia è in Asia. Ma sono i turchi stessi che affermano, rivendicano, sono orgogliosi di una identità islamica che è sempre più islamica. Soprattutto in questi ultimi 15 anni l'islamizzazione della società turca, riscontrabile nella crescita delle donne velate, delle scuole coraniche, ma anche di un atteggiamento discriminatorio, persecutorio e violento nei confronti dei cristiani. Ci sono stati negli ultimi 5 anni diversi missionari e sacerdoti cristiani assassinati in Turchia, tra cui il nostro don Andrea Santoro nel 2006. In Turchia è assolutamente impensabile che un cristiano possa manifestare pubblicamente la propria fede o fare proselitismo al cristianesimo. Poi ci sono tante altre ragioni che riguardano la negazione della verità storica del genocidio di un milione e mezzo di cristiani armeni, l'occupazione illegale di uno Stato membro dell'Unione Europea, Cipro, e nella parte di Cipro occupata dall'esercito turco. Le chiese sono state profanate e alcune di esse sono state trasformate in moschee. Tutto questo ci indica chiaramente che la Turchia non è Europa. Ma dire che la Turchia non è Europa non significa né voler coltivare un pregiudizio nei confronti dei musulmani, ce ne sono 20 milioni all'interno dell'Unione Europea, la gran parte dei quali sono cittadini europei. Né in alcun modo immaginare che l'affermazione delle radici giudaico-cristiane, di un'identità cristiana della civiltà europea, significhi che l'Europa sia un club riservato ai cristiani. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!